è in difficoltà la nuova regia delle feste vigiliane almeno questo sembra secondo quanto sta emergendo l'intenzione di cambiare alcuni appuntamenti alcuni eventi sta portando qualcuno a ribellarsi a dire no non c'è solo l'esempio della zatterata ma c'è anche un Mario Cagol su tutti ad esempio che ha annunciato di abbandonare la scena sentiamo che non sarebbero state le feste vigiliane alle quali eravamo abituati lo si era capito subito il cambio di regia passando da Guido Malossini e del suo staff al centro servizi culturali Santa Chiara imponeva una svolta con una serie di approfondimenti culturali e storici l'interrogativo è se il nuovo format avrà lo stesso appeal insomma se una sagra popolare possa diventare un festival e se spettacoli più ricercati attireranno l'attenzione del grosso e variegato pubblico che riempie piazze ed esercizi pubblici l'interrogativo è sempre aperto ma intanto Mario Cagol ha detto no e in Subuglio ci sono Ciuse e Gobbi ma anche gli zatterieri Mario Cagol la vede così critiche no solamente modi diversi di pensare cioè per me la festa popolare quella che è sempre stata deve essere la festa popolare dai canedeli alle luganiche alla tonca le cose allegre divertenti le cose culturali ci stanno benissimo ma forse non in quel contesto cioè nella battaglia di Ciuse Gobi fra una pausa e l'altra sentir suonare archi obo e violini lo trovo forse un po' una cosa che stride ecco questo solamente questo per il resto sicuramente sanno fare il loro mestiere ma siamo su due livelli diversi le feste popolari le deve restare popolari popolari cosa significa significa per tutti per la gente che vengono dalle valli che ha voglia di staccare un po' dai pensieri la gente che arriva dalla città che comunque voglia di farsi in risata in allegria di maniare pasta dell'Ugane che ha una tavolata con gli altri amici ridere scherzare e magari non dover lavorare de testa per ogni cosa che viene detta o fatta cioè una cosa un po' più serena allegra non per questo non intelligente ma leggera spensierata ecco questo ecco visto che lei non farà la tonca ci può anticipare chi avrebbe toncato chi toncherebbe adesso probabilmente sarò mi il toncato di quest'anno ma io non ci sarò perché sarò al mare col guido malossini coi peotti in l'acqua forse non sarà proprio così perché il sindaco si sta impegnando si è impegnato a convincere a mario cagol a rivedere le proprie decisioni sindaco che ha anche ricordato al centro servizi culturali santa chiara proprio l'ispirazione popolare delle feste noi vigiliamo sul programma il programma sarà poi condiviso tra centro servizi culturali santa chiara il comune quindi sono attesa del programma definitivo a me interessa che come sempre ci sia una festa che alla dimensione della popolarità devono mantenere un livello popolare naturalmente nello stesso tempo devono offrire anche qualcosa di nuovo del resto faceva sempre così anche guido malossini ogni anno c'era una novità ci saranno novità anche quest'anno ma di sicuro verranno confermati tutti gli eventi tradizionali e attesi le prova appunto di mantenere il filone popolare della festa appunto non è stato forse un po esagerato affidarlo a una realtà come centro servizi culturali santa chiara non era il caso di tenerlo proprio in mano al popolo l'organizzazione ma guardi il centro servizi culturali santa chiara è una realtà con legame molto forte con provincia comune questo lo sappiamo quindi noi abbiamo da tempo affidato a santa chiara tutto quello che è cultura cultura non è necessariamente qualcosa di complicato di difficile di elevato di distante certo c'è qualche offerta che può essere anche un po più impegnata impegnativa però quando noi abbiamo parlato l'ho fatto io stesso con il centro servizi culturali santa chiara col presidente col direttore ho subito con forza detto che la dimensione popolare deve essere evidente che è quella dell'incontrarsi dello stare insieme del gioco anche della risata anche dell'ironia proprio della festa per le strade della città e soprattutto che si rivolge a tutti dai bambini della scuola materna agli anziani anche di 80 e 90 anni che hanno voglia di scendere nelle strade per stare insieme questo verrà mantenuto questo è un punto fermo dunque a chi se ne va come mario cagol cosa risponde ma questo la verità l'ho letto sul giornale e mi dispiace un po' stamattina proprio anche provato un po' a sentirlo perché ha fatto bene ha caratterizzato un'epoca alcuni di questi anni sappiamo che si sono alternati tre comici tutti tre molto bravi che hanno saputo appunto preparare bene la tonca prima col tribunale della penitenza che lui ha fatto molto bene è stato molto apprezzato per quanto possibile io cercherò di recuperarlo